Stasera Ben tornati dopo la pausa estiva nel nostro spazio dedicato alla buona tavola e ai dolci con Daniela Scotti da quest'anno lanciamo un format diverso perché sarà proprio una rubrica esclusivamente dedicata a Daniela e infatti si intitola Le delizie di Daniela e cominciamo in dolcezza perché vedo che hai preparato qualche cosa proprio di dolce Sì esattamente innanzitutto buonasera visto che ci rivediamo come hai detto tu quest'anno tutto nuovo abbiamo una nostra sigla abbiamo tutto nuovo solo noi siamo un po' invecchiate però vabbè non fa niente andiamo avanti così Sì cominciamo in dolcezza perché mi sembrava giusto cominciare appunto con un bel dolce come si vede qui è una tortina biancaneve ma non è la classica apple pie perché sai che quando si pensa a biancaneve quello è il dolce che viene in mente la mela sicuramente è l'ingrediente principe di questa torta ma adesso man mano vedremo come farla Cominciamo quindi subito con la ricetta vediamo quali sono gli ingredienti per realizzare questa torta Sì allora gli ingredienti cominciamo da un guscio di frolla quindi questa torta spieghiamo prima come è fatta avrà un guscio di frolla friabile al limone quindi prepareremo una pasta frolla dopodiché ci sarà una farcia il primo strato sarà di una composta che io ho qua che ho realizzato con le mele cotogne quindi noi utilizzeremo per oggi due tipi di mele utilizzeremo delle mele cotogne e delle mele tipo pink diciamo sai che sono quelle un po' più croccanti ci tengo a dire che sono mele nostrane locali quindi comunque delle mele sane perché già la mela di per sé fa bene poi chiaramente se abbiamo la possibilità di prenderle da un coltivatore diciamo locale chiaramente il risultato è ancora migliore allora quando alle ciance io direi di impastare vediamo gli ingredienti che hai messo qui in bella mostra esatto cominciamo con della farina in questo caso noi faremo una frolla di base quindi utilizzeremo 350 grammi di farina doppio zero poi utilizzeremo 150 grammi di burro morbido mi raccomando il risultato della frolla è determinato dalla qualità del burro quindi utilizzate sempre un buon burro vedi questo è anche un po' giallo io già l'ho detto altre volte quando vedete che il burro è troppo bianco quello è siero di latte per cui evitatelo cercate di trovare un burro che sia leggermente giallo questo vuol dire che il caglio all'interno è notevole quindi il risultato sarà buono allora 150 grammi quindi di burro scusami 100 grammi di zucchero 2 uova e poi ci metteremo una bella grattatura di limone in questo periodo i limoni non sono il massimo in questo periodo sulle nostre piante però io penso che sia meglio utilizzare un limone locale e quindi di cui sappiamo la provenienza piuttosto che acquistarlo quindi non fa niente noi gratteremo giusto per dare un po' di aroma e poi naturalmente sempre un pizzico di sale quindi procedo subito e vado a mettere la mia farina la classica fontana questa è un pochino in più di 350 anche perché molto spesso noi diamo degli ingredienti però chiaramente poi come ho sempre detto dipende anche dalla farina dal burro, dall'umidità che c'è io credo che questo tipo di torta poi qualcuno magari lo vuole realizzare con un'altra tipologia di farina quindi sarà poi tutto cambierà immagino certo si può utilizzare anche della farina per esempio un misto di farina io spesso utilizzo grano saraceno farina di riso anche farine prive di glutine chiaramente lì la composizione è diversa per cui non essendoci la presenza del glutine vanno impastate in un certo modo però comunque il risultato è sempre ottimo allora io comincio vedi a inglobare il burro, lo zucchero e poi piano piano ci vado a mettere la mia farina qui ci si pasticcia un po' intanto da casa state attenti perché questa sarà la base per tantissime altre ricette che faremo in questo anno quindi magari ora la fa vedere Daniela le prossime volte diciamo partirà già con l'idea che voi la sappiate fare esatto perché poi noi abbiamo tanti amici da casa che ci seguono e che sono bravissimi nel rifare le nostre ricette però magari abbiamo qualche amico nuovo che ancora non ci conosce quindi gli spieghiamo anche la ricettina anzi a proposito dei nostri amici da casa fammi dire una cosa devi sapere che noi abbiamo tante persone che ci seguono ci seguono anche con molto affetto mi scrivono su facebook eccetera però abbiamo un amico speciale che ci segue è un amico che purtroppo non ci può vedere però ci ascolta e ci ascolta con molto piacere si chiama Antonio quindi ci tenevo a salutare Antonio e alla moglie Rosalba che anche lei pasticcia insieme a noi spesso rifà queste mie ricette quindi Antonio questa ricettina la dedico a te va bene? un pensiero dolce esatto dunque a questo punto vedi che stiamo pasticciando proprio ben bene a questo punto purtroppo con i guanti diventa tutto più appiccicoso però farlo con le mani non mi sembrava il caso in televisione se poi avete una bella planetaria chiaramente voi mettete tutti gli ingredienti all'interno della planetaria e il gioco è fatto praticamente però poi non c'è più divertimento no infatti infatti non perdiamo mai la nostra manualità dunque un pizzichino di sale ecco qua e a questo punto anche se ho le mani un pochino sporcherelle devo grattugiare il mio limone aspetta vedi che faccio per pulirmi sbriciolo con un po' di farina in modo tale che non vado a fare troppi pasticci poi oggi fa ancora molto caldo per cui il burro vedi è molto molto morbido quindi il nostro impasto in questo caso è veramente morbido allora che cosa succede soltanto abbiamo sempre detto soltanto la buccia gialla questo perché la parte interna è più amara esatto la parte bianca non va mai grattugiata vedi che aroma guarda arriva l'odore fortissimo allora a questo punto sempre con le punte delle dita andiamo a inglobare il tutto e formiamo un bel panetto chiaramente questo panetto poi dovrà riposare non lo possiamo utilizzare subito perché dobbiamo dare il tempo al burro di tirare quindi quanto tempo deve riposare in modo che magari da casa se vogliono fare questa torta possono partire il giorno prima sì allora io vi consiglio almeno un giorno un'ora se poi riuscite a tenerla il giorno prima anche tutta la notte quindi va benissimo magari la preparate la sera in modo che la mattina ve la trovate pronta ecco qui vedi sta cominciando ad essere compatta si lavora molto la pasta di questo genere assolutamente anzi la stiamo maneggiando anche troppo perché comunque andrebbe veramente lavorata pochissimo allora io a questo punto faccio una cosa però la tolgo da qui la metto un attimo sul mio piano spostiamo sì grazie fai tu così non ti sporco e compattiamo sempre solo con le punte delle dita mi raccomando il guanto ci permette anche di non riscaldarla con la mano perché magari la nostra mano potrebbe essere calda allora a questo punto vedi comincia a prendere una bella consistenza noi che cosa facciamo le andiamo a compattare ecco qui benissimo a questo punto la chiudiamo la sigilliamo in una pellicola vedi o anche nella carta forno dove l'abbiamo lavorata però io vi consiglio di usare la pellicola la chiudiamo e la mettiamo in frigorifero le diamo la possibilità di compattarsi quindi abbiamo fatto riposare la pasta nel frigorifero adesso è qui sul tavolo tu ora ci dai dentro di mattarello un po' come al tuo solito non sul marito ma sulla pasta gli anni passano ma tu rimani sempre la stessa e tu e il mattarello sul marito ti piace allora la frolla vedi si è compattata ha preso quindi una sua consistenza il burro ha tirato io ne ho preso un pezzo e l'ho cominciata un po' a stendere in modo che vediamo poi da casa tutti i vari passaggi allora che cosa succede adesso una volta che l'abbiamo stesa vedi con il mattarello uno spessore abbastanza sottile noi andiamo a prendere degli stampi allora io preparerò una tortina biancaneve un pochino più grande in uno stampino classico da crostata però come sai a me piacciono anche le monoporzioni per cui ho preso dei piccoli stampini vedi questi da pastierina piccoli e quindi faremo anche una monoporzione della stessa tortina perché è carino anche quello allora facciamo vedere una cosa da casa cosa facciamo poggiamo vedi sulla nostra pasta ok e in questo modo andiamo a togliere la restante parte vedi come fa caldo che si scioglie subito la pasta oggi veramente questo è un bene o un male per la pasticceria per la pasticceria non è un bene il caldo non è mai un bene perché comunque non diciamo con il freddo si lavora sicuramente meglio si lavora anche più freschi ma anche per mangiare poi queste cose perché col freddo viene più appetito e si sa insomma che si ha bisogno di un po' di calorie in più certo sicuramente sicuramente con il freddo diventa tutto più piacevole noi come vedi oggi abbiamo proprio tutti i prodotti dell'autunno perché ormai siamo in pieno autunno e quindi è giusto rispettare anche la stagionalità vedi ho preparato questo guscio che ho messo all'interno vedi tagliandolo in questo modo noi gli diamo proprio la forma del nostro stampino e l'andiamo un po' a schiacciare poi come sempre vi dico bucherelliamo con una forchetta perché lo facciamo vediamo se ti ricordo lo facciamo per far uscire insomma i vapori in modo che possa cuocere bene esatto così durante la cottura non gonfierà la nostra frolla ecco qua perché la presenza dell'uovo tende a farla gonfiare maestro ho studiato quest'estate dai quest'anno io qualcosa ti devo far fare quest'anno mi devo sto pensando sono ancora work in progress ma io qualcosa alla fine te la devo far fare allora stessa cosa adesso stendiamo la nostra frolla perché abbiamo detto che dobbiamo fare la monoporzione ecco qui ora per fare questa invece ci aiutiamo con un coppapasta andiamo sempre a misurare vedi in questo caso è un pochino più grande quindi è perfetto lo andiamo a tagliare la preleviamo ecco qui e lo andiamo ad agiare nel nostro stampino vedi in questo modo anche qui andiamo a bucherellare fatto questo che cosa succede non cuociamo perché andremo a cuocere tutto insieme quindi fatto questo adesso delle frolle dobbiamo passare alle farce abbiamo detto ci sono due farce che andremo a realizzare una con la mela cotogna quindi con una composta di mele cotogne e un'altra con la crema pasticcera quindi io direi di pulire un attimo il tavolo e di passare al passaggio successivo ecco allora continuiamo con quella che è la farcitura delle nostre torte vediamo che Daniele ha preparato sia la crema che la marmellata esatto poiché sono due preparazioni molto lunghe non potevamo chiaramente realizzarle in questo tutorial quindi la prima cosa ho detto il primo strato di farcia sarà quello di una confettura di mele cotogne vedi queste sono le mele cotogne sono delle mele antichissime che esistono insomma da sempre e ancora per fortuna ischia c'è qualcuno che le coltiva e quindi con queste io ho realizzato questa confettura come si fa la mela cotogne è un po' particolare rispetto alla mela normale un po' più aspra sì ha questo suo sapore particolarmente acidulo che è dato proprio dall'acido malico che sai che fa benissimo tra l'altro come antinfiammatorio e quindi chiaramente consumiamola perché fa bene la mela e in questo caso è anche un po' legnosetta diciamo come è molto compatta quindi cosa va fatto va fatto uno sciroppo di acqua e zucchero quindi una pentola diciamo per un chilo di mele all'incirca io ho messo due trecento grammi di zucchero non ne metto tantissimo perché a me piace che debba rimanere comunque un pochino aspera che si sente il sapore della mela cotogna acqua quanto basta per coprire un po' le mele poi si fanno cuocere molto lentamente tenderà a schiumare come tutte le confetture va tolta la schiumatura superficiale dopodiché vanno scolate non gettate via questo siero buonissimo questo sciroppo di mela che può essere utilizzato per tante altre preparazioni e invece poi la polpa va frullata magari con un semplice frullatore di immersione e poi chiaramente va messo in vasetto seguendo bene e attentamente tutte le diciamo applicazioni per preservarlo dai batteri esatto esatto fatto questo otterremo questa composta questa confettura di mele cotogne che è buonissima e quindi oggi che cosa andiamo a fare vedi anche un colore un po' rosato questa la andiamo a spalmare abbiamo detto come primo strato della nostra tortina biancaneve perché è una tortina che racchiude tanti sapori sicuramente quelli della mela però io poi non ho detto che all'interno di questa confettura io ho messo anche della cannella perché trovo che con la mela la cannella sia ottima quindi se vi piace approfittatene altrimenti potete mettere una semplice grattatura della buccia di limone uno strato generoso di confettura sì 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 uno strato generoso ecco qui perfetto andiamo a livellare e faremo lo stesso anche nella nostra piccola tortina monoporzione ok fatto questo andremo al secondo strato il secondo strato che cosa prevede? prevede della crema pasticcera al limone che io ho già preparato questa qui per la ricetta l'abbiamo detta tante volte diciamo orientiamoci in questo modo 100 ml di latte un tuorlo d'uovo perché la crema pasticcera va fatta solo con i tuorli un cucchiaio raso di zucchero un cucchiaio colmo di farina dopodiché una bella buccia di limone messa sul fuoco e fatta rappredere conserviamola poi in frigo e otteniamo questa ottima crema pasticcera che può essere utilizzata per farcire può diventare anche una crema diplomatica nel momento in cui noi ci andiamo a mettere un po' di panna montata e la potremo utilizzare per farcire creme per farcire crostate quanto tempo può essere conservata la crema pasticcera in frigorifero? allora questa può essere anche congelata volendo ben chiusa ermeticamente può essere anche congelata e mantenuta diciamo per una decina di giorni non di più per la presenza delle uova anche se le uova in effetti cuocendo sono pastorizzate però sai c'è il latte c'è le uova cerchiamo di non mantenerla troppo tempo e poi è una cosa talmente buona che insomma riesce subito conservarla a lungo non mi sembra il caso stessa cosa facciamo anche con la nostra tortina la andiamo a sigillare magari ci aiutiamo con una spatolina in questo modo questo è importante appunto che sia piena perché tu dicevi come mai è bella farcita è importante perché questo ci servirà poi per attaccare le mele che andremo a mettere sopra quindi fatto questo livelliamo ci fermiamo e andiamo a prendere le nostre mele la mela quindi è stata tagliata la vediamo vediamo qui le fettine in questa zuppiera adesso che cosa farai dunque adesso faremo la decorazione finale che poi più che decorazione comunque è una parte importante della nostra torta biancaneve utilizzeremo queste mele che ti dicevo sono tipo le pink perché sono delle mele molto croccanti e sono delle mele ischitane quindi questo è importante perché comunque come ti dicevo prima cerchiamo di usare prodotti sempre nostri e locali anche per sostenere un po' la nostra economia ischitana che in questo momento ha bisogno di un po' di vigore chilometro zero insomma esatto chilometro zero comunque che cosa ho fatto ho preparato vedi qualcuna l'ho già affettata perché altrimenti dopo ci dilungavamo troppo che cosa con un attrezzo quindi come questo che è una mandolina noi andiamo a realizzare delle fettine molto sottili mi raccomando io vedo che conservi la buccia sì l'ho ben lavata spazzolata e utilizzerò anche la buccia perché la buccia a parte che fa bene quindi sapendo che è un prodotto locale la possiamo utilizzare e poi mi deve dare anche un effetto cromatico per la mia torta allora affettata questa mi fermo per evitare di affettarmi anche la mano cosa che può succedere purtroppo una versione creepy insomma della puntata sì più da da strega di biancaneve diciamo allora a questo punto che cosa ho fatto le ho messe in acqua succo di limone e zucchero perché sai che il succo di limone permette alla frutta di non annerirsi altrimenti mentre noi prepariamo ritroveremo le nostre mele completamente nere quindi mi raccomando fatto questo che facciamo le scoliamo vedi le mettiamo qui e andiamo a crearci poi la nostra decorazione quindi ci tolgo un po' dell'acqua diciamo della dell'acqua insomma dello zucchero dove sono state devono essere ben asciutti oppure non fa nulla no non è importanza io ho messo anche una puntina di zucchero perché perché quando poi le andremo a infornare quello caramellerà quindi le nostre mele saranno ancora più saporite seguitemi bene perché adesso faremo un passaggio importante allora cosa facciamo andiamo a chiudere perché noi adesso andiamo a realizzare dei boccioli di mela ok allora qua ci vuole un po' di manualità si procede con una fettina un po' più sottile si dobbiamo prendere una fettina sottile ecco adesso ce l'abbiamo poi la andiamo a chiudere con un'altra fettina con un'altra ancora e cominciamo a creare il centro del nostro bocciolo a questo punto lo fissiamo vedi all'interno perché era importante la crema perché la crema adesso mi permette di andarmi a fissare tutte le mie fettine diciamo che la parte difficile è solo quella iniziale del centro del bocciolo poi vada sì esatto esatto abbiamo bisogno che al centro del bocciolo dobbiamo prendere una fettina leggermente più morbida altrimenti ci si spezza purtroppo capita e vabbè si cambia questo è il bello della diretta no? allora a questo punto che cosa andiamo a fare? proseguiamo tutto intorno vedi? vedi com'è carina tu riempirai tutta la torta? sì in questo caso la riempirò tutta altrimenti se la facciamo più grande come quella che ho fatto dopo e ti farò vedere praticamente se ne possono fare più fettine cioè fa più boccioli quindi possiamo fare dei boccioli laterali con una centrale in questo caso poiché lo stampo è piccolo ne facciamo soltanto una centrale stessa cosa procediamo con quella piccolina ok? allora io continuo lentamente e poi andiamo a vedere il risultato finale ecco qua questa è l'opera finale ci vuole un po' di pazienza ma come vedete è molto bella sì esatto io queste le avevo realizzate qualche tempo fa e le avevo pubblicate in pagina per cui le amiche mi avevano chiesto la ricetta insomma molte amiche di facebook allora ho pensato di chiedergli se ve la propongo in un prossimo tutorial vi piacerebbe vedere perché chiaramente va vista perché spiegarla diventa complicata anche se poi alla fine non sono dei passaggi complicatissimi quindi adesso ve l'ho fatta vedere appunto perché così potrete realizzarla a questo punto che cosa succede va in forno naturalmente quindi la mettiamo a 170 gradi all'incirca 35 minuti ora però devo spiegarvi una cosa le mele potrebbero tendere a cuocere un po' troppo allora se voi vedete che cominciano a scurirsi non lasciatele scurire troppo è chiaro che perderanno il loro colore perché si cuoceranno però nel momento in cui vedete che prendono un colorito un pochino troppo marcato è troppo bruno che cosa fate copritele o con una carta forno quindi coprite la sommità del nostro stampo con una carta forno e continuate la cottura perché chiaramente sotto noi dobbiamo cuocere il nostro guscio la farcia è già tutto cotto però si deve comunque compattare e poi portate ad ultimare la cottura quindi adesso noi 170 gradi per 25-30 minuti dipende dal vostro forno e vediamo poi il risultato finale e allora questa bella crostata a forma di rosa è stata sfornata ci sono le tortine quindi delle piccole rose che accompagnano come vedete Daniela non smette mai di stupirci anche con i suoi allestimenti un grande impatto scenico eh sì specchio specchio delle mie brame se no che torta biancaneve sarebbe tra l'altro ti dico anche un segreto adesso la porterò alla festa di compleanno di una mia amica Emanuela anzi tanti auguri di buon compleanno perché questa è la sua torta preferita bene allora in conclusione ricordiamo la pagina facebook attraverso la quale Daniela può dialogare con voi e ovviamente accetta i suggerimenti i consigli per le prossime trasmissioni certo la mia casa è la vostra casa come si suol dire quindi mi raccomando venitemi a trovare su facebook lì tanti suggerimenti le delizie di Daniela vi aspetto e quindi alla prossima trasmissione che stasera ci sono le delizie di Daniela qualche cosa poi di buono non riesce a avere la prima roba che stasera non ci sono per nessuno che stasera faccio abbastanza ma Daniela come va bene cercare la ricerca si provare la mia scuola non ti imballe non va bene per te per gustar bene alzima a me